E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi sono qui su Rayman Legends E con me, come vedete, come avete letto dal titolo, c'è un ospite speciale, specialissimo E un ospite così speciale ragazzi sul mio canale non lo troverete mai Perché sono in compagnia della mia ragazza, della mia fidanzata, Violetta Ciao, eccomi Eccoci, boom Allora Con questo coso ciccione Allora, siamo pronti a iniziare Questo è un gioco nuovissimo, Rayman Legends Noi l'avevamo già giocato al capitolo precedente, ovvero Origins E ci era piaciuto moltissimo e siamo pronti a giocare a Legend E abbiamo subito visto che oltre alla storia, che vedremo tra poco Ci sono anche le sfide e soprattutto c'è questo che è Confut ragazzi E ora ci sarà una sfida all'ultimo sangue All'ultimo sangue Dai, sei pronta? Sì 3, 2, 1 E ora, e ora, e ora, e ora ti faccio gol No Che l'anima di Cristiano Ronaldo sia con me No, no E vabbè, non è giusto Dai, dai No, ma come fai? Ma è più brava di me Dov'è il pallone? Non è con tutti i tasti Eh, bene, ottimo, non è che fai una bella figura, sentici queste cose 1-1 Ma come, non ti era piaciuto moltissimo il gioco precedente? Eh, ma E questo non ti ricordi più i tasti? Devo prendere un po' la mano Dai Perché prima ce la facevo? Eh, anche adesso mi sembra che ce la fai 2-1 per te Non lo so Sì, stessi, autogol Ma che autogol? Ho fatto un tiro acrobazia altro che FIFA Altro che FIFA No, no Ho fatto io autogol No, ho fatto io il gol No, palo Non è possibile Maledetto gioco È buggato Non è possibile Non ci riusci Dai Eh, dai E non va Oh Ma per Sì, andiamo No, ragazzi che poi Se io perdo, rosico, eh Perché perdo con lei No Dai, vado E insomma c'è questa sfida Che ci appassiona molto Oh Ma perché prendo sempre il palo? Vedete che è buggato peggio dei giocatori di FIFA Ragazzi se volete una sfida in FIFA Fatelo sapere E' tanto 6-5 Vedete, con la mia parlantina Ma Guarda, guarda che pro Ma Mannaggia 7-5 Dai No, no, no Ma dai Ma mi schiacciano Ho vinto io però Di un punto Ho vinto io Rivincita 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 Stavolta basta Stavolta Ti lascia 0 gol E' uno E' uno E' due Oh, eh Eh E' tre Arriva il terzo No Arriva il terzo Eccolo No La palla è infuocata No, no, no Propriamente Ma non mi menare Ma non mi menare Mi sembra come faccio Vincere Grazie Che figura di merda Due pari Ho capito Ma te La tecnica Mi mena Ragazzi Mi mena Cioè Ma veramente Parla 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 Oh, oh Aia Guarda, guarda, guarda Sono solo davanti alla porta Aia No, non è possibile No Oh, levati Ma levati te Eccolo, eccolo, eccolo Eeeh Ci fidiamo Mamma mia Eh, beh Questo è proprio buono Non mi dà il gol E' buggato E' buggato No Non è possibile Non ci credo Vabbè, dai Allora No, no, vabbè Usi i trucchi Usa i trucchi Usa i trucchi Stanno pure gli omini verdi caccolosi Che fanno il tifo per lei Ma hai barato No, ho vinto Ha barato Ha barato, vero? Vero che ha barato Vabbè Basta Uno per uno E non fa male nessuno Facciamo la La bella Eh? Che è la bella? Questa andava bene Eh, certo Perché hai vinto Non la vuoi la super rivincita? No No Anche no Rosichi Rosichi No, ti rivinco Ah, non si è fatta No, vabbè Vabbè Questa non la mettiamo No Perché? No, no Questa Questa la tagliamo Andiamo subito Andiamo subito a fare A fare il gameplay Vai via Come non detto Bene Dunque La sfida L'abbiamo fatta E meglio Non ricordarla E oltre Ah, ci stanno anche Le challenge Che ve le faccio vedere No Che lei odia Perché non è capace Nelle challenge Ve le faccio vedere Perché Praticamente ogni giorno Vedete Si sbloccano queste sfide E sono sfide Principalmente Di corsa Ovviamente Siete Siete dei runner E dai Vi faccio vedere un attimo La sfida di questa settimana E È molto semplice Ah, perché cambiano Ogni settimana? Si Ti sbloccano altre sfide Man mano che Fai il gioco E al momento C'è questa qua Devi saltare Se no No adesso Atterta la lama Niente Non corre molto Non fa molto sport Bisogna praticare lo sport Niente Invece come vedete Guardate che pro Guardate che pro No, ma quello mi ha superato Occhio Insomma È praticamente Tutta una sfida Di riflessi Che dovete Zompettare Ecco Poi ho perso Eh, infatti Si vede Ultimo Ultimo Ma adesso Andiamo proprio Nella parte succosa Del gioco Ovvero La storia Vi facciamo vedere Un capitolo Dove vuoi andare Nel castello da brivido O nella foresta incantata La foresta? Foresta incantata Certo È una femmina All'altronde Foresta è il castello da brivido È più da maschio È più da omini Omini duri Sì, va Allora ragazzi Qui adesso Iniziamo un livello Poi ovviamente Voi fateci sapere Con un bel pollice in su Ed anche con un commento Che cosa devono mettere? Mi piace Subito Per altri episodi Mi piace Per altri episodi Oppure se volete anche Altri giochi In compagnia Di Violetta Perché dovete sapere Che lei Ogni tanto gioca con me Ma io non sono fan Di Violetta Comunque Guarda Guarda Sei esplosa Non so perché Ah perché tu non mi aspetti Dovete sapere Che lei Gioca Videoguoca con me È una mezza specie Di videogiocatrice E uno dei suoi giochi preferiti Che l'appassiona tantissimo E l'abbiamo finiti Due e mezzo È Assassin Assassin Creed 2 E il Brotherhood È anche un po' Quell'altro Ezio Auditore Ma adesso siamo qui Su Rayman E dobbiamo acchiappare Questi I looms Dai 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 Sbrigati Sbrigati Guarda che Sì Dai che Assassin Accoltellavi tutti Tutti Le guardie I templari Ma qua Non sai scendere Da un albero Guarda ho trovato Una porticina segreta Tac Che ovviamente Hanno le porticine Segrete Nei livelli E vanno liberati Ma perché Mi hai ammazzato Vanno liberati Gli amichetti Nasoni Quei cosi Nasoni Quei nasoni brutti Vieni qua dai Poi E poi Mi sa che Dobbiamo saltare qua Sì sulla mano Sul triang Il triangolo No Il triangolo No Non l'avevo Considerato Come si fa a salire sopra Eh non lo so Però mi stai spiaccicando di sotto Così Devi saltare addosso al muro Devi fare il parkour Eh volevo farlo però Eh lo fai dopo Guarda mi ha dato un bacetto eh Non sei gelosa Che brutto Dovresti essere gelosa Io conquisto I bei Nasoni Nasoni Sexy Ah ha fregato il nemico Vai dall'altra parte Dai si C'è l'altro nasone Che bisogna liberare Vai dall'altra parte No Occhio 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 Ok ci siamo Dobbiamo chiappare anche però Le monete dorate I sordi I big mo Mi stavi Mi stavi uccidendo C'è qualcosa là E prendili Prendili Non ci riesco Prendili Dai stai facendo un epic fail Prendili Dai Non ci riesco Come devo fare Contiamo i secondi Quanto ci sta mettendo Alleluia Ok spacco l'uovo Spacco l'uovo Spacco la bottiglia In testa No So crepato Mi aiuti Mi aiuti Mi aiuti Mi aiuti Grazie Fammi prendi i soldi Big money I want a big money Oh guarda che carini Che carini Qui bisogna spaccare Ammazzare Dai bisogna liberare I nasoni Hai voluto far foresta incantata Io volevo fare Il castello magico Maledetto E poi faremo anche quello Dipende Vediamo Vediamo Se piace Se vuoi Doi fans Miei amici Doi fans Per chi che sborsano I soldi È una citazione Anche lei fa le citazioni Chissà perché Tutto il giorno A sentirle Perché vedete Non è che la rincoglionisco Come dice lei Ma io per fatto Non me le ricordo Ma stai facendo tutto te Ma mi lasci giocare Anche a me per favore Vai in acqua Guarda che C'ho da liberare i nasoni Io qua Ah no C'ho da prendere i soldi Quelli belli grossi Come si chiamano I big money I want the big money Eh Poi guarda Che è la tutta la festa C'è là Eh ora Andiamo pure noi A festeggiare Insieme Yeah Abbiamo finito il livello Adesso Adesso il castello Incantato Però Il quadrifoglio Che cos'è il quadrifoglio Porta fortuna Abbiamo sbloccato Una porta segreta Guarda Guarda quanti quadri Abbiamo sbloccato Abbiamo sbloccato Tanti livelli La pro player HD Che dice Abbiamo sbloccato un mondo Ah vedete Un mondo Nel mondo ci stanno i livelli Proprio vecchio stile Alla super mario bros Questo è un gioco da non sottovalutare È un gioco da non sottovalutare È una cosa seria Quindi non bisogna Prendere la sottogamba Esatto Esatto E che cosa volevamo vedere Questo che cos'è Che è sta roba qua Questo nuovo mondo Corsa nel dangerum Che carattere Chi è quello Non lo so La rana pazza La rana porta fortuna Ah mi sa che questa È l'altra bella cosa Che non ti piace a te Cioè le corse Non è una corse Come no Sono già morta infatti Ma perché devi correre Non lo so Corsa nel dangerum Chi ti ha detto che devi correre C'è scritto così È una corsa Corri 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 Scappa che c'è il fuoco Corri scappa che c'è il fuoco Scappa 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 No 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 I nasoni Niente nasone 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 Fuoco fuoco Il fuoco Il fuoco De satana Ti puoi No Devo 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 finire il livello Vai Vai Niente È impossibile Ma come Ecco Non ci riesco I nasoni Niente 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 aiuti Niente aiuti Niente aiuti Sono morta tante volte E finito vince Le ricompense morti Esatto Esatto Il quadrifoglio Non abbiamo visto Eh Grazie a vinci Barbara è libera Evviva Che bella Una bella milfona tettona Che è? Che mi devo sentire dire Ah Stai giocando Vedi Te puoi prendere Balba Che brutto Vuoi prendere Barbara Non ci tengo Allora facciamo Il gratta e vinci Gratta e vinci Gratta 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 Non lo so Ecco Non abbiamo vinto niente Secondo me Vediamo che abbiamo vinto Abbiamo vinto Una creaturina Sì Aspetta Poi che la porta sotto A fare i bisogni La porti te La creaturina Bobo Bobos Ma andamola a vedere Chi è Bobo Credo siano cose collezionabili Che strani esseri Benvenuti nella galleria Ogni giorno Ah vedete Servono Servono Per farci avere I loom I sordi Che poi ci permetteranno Di avanzare a livelli E sbloccare livelli successivi Che credo siano Un bordello Bene ragazzi Io spero veramente Che il video vi sia piaciuto Anche grazie all'ospite speciale Lo so che ha fatto tutto lei Però Vi ricordo come al solito Di lasciare Un mi piace Un bel pollicione in su E di lasciare anche un commento Qui sotto Noi ci vediamo prestissimo Con un nuovo video E fatemi sapere Anche se volete Violetta In altri miei video Che non siano per forza Reiman Anche altri Noi vi mandiamo Un abbraccione E un salutone Un salutone E Ci ricaugente Cosa succede? Comincia a sparare Raggi laser Dalla tua cosa dorata Boom Un disastro Ma lo scorpionabile Schiva le mosse E si prepara Il contrattacco Lascia una scatola Venso il record E boom Che colpo amici Sembrerebbe ormai Tutto finito Ma incredibile E con la sua aura Potentissima Alberi Terra Se aspetta Stavo facendo Ecco Stavo facendo Un'energia sferica